Faccio questa cosa perché serve per mettere a posto l'audio. Spinel e la vita. Avevo già fatto un video su Spinel chiamandolo Spinel e la morte e si parlava di quell'aspetto di Spinel dopo essere stata abbandonata da Diamante Rosa. E beh, stavolta pensavo di parlare dell'altra Spinel. Dopotutto nel film di Steven Universe abbiamo due facce di Spinel, due volti diversi. Uno è quello che ho già affrontato una volta, l'altro è una Spinel molto più piccola, docile e carina. È una Spinel che è stata creata per giocare e divertire i bambini e che per tutto il film viene ignorata. Questo è il primo grande errore di Steven. Finora Steven è sempre stato quello che aveva ragione. O meglio, è stato per molto tempo quello che aveva ragione, che consigliava alle gemme che cosa fare, dicendo loro qual era la giusta soluzione. Il giusto piano da seguire e era riuscito a far cambiare idea persino ai Diamanti, ma non aveva mai sbagliato. O meglio, non sbagliava da parecchio tempo. Perché nella prima stagione effettivamente Steven sbagliava spesso. Guardate i primi episodi della prima stagione. È sempre lo stesso schema, ovvero Steven che vuole andare in missione, vuole stare con le gemme perché si sente parte delle gemme. E poi rovina tutto, distruggia torri, perde oggetti e distrugge ogni cosa. Ogni episodio finiva con un'esplosione e Steven che aveva rovinato tutto perché non aveva ascoltato quello che Perla gli aveva detto. Beh, è la stessa cosa che fa Spinel. Fateci caso, Spinel, proprio come Steven, passa per tutto il tempo... Il tempo, seguendo Steven. Segue Steven, segue le Crystal Gems, partecipa alle conversazioni, stando lì tranquilla, felice, guardandosi in giro e sorridendo, sperando prima o poi di essere interpellata. E effettivamente ogni tanto propone qualcosa di sensato. Non dimenticate che è lei a proporre quella che è davvero la soluzione a tutti i problemi delle gemme. Ma viene ignorata. Lei viene incompresa e quindi ignorata. Spinel vuole solo giocare. Giocare, giocare, giocare. Ma Steven è in una situazione seria, di estremo pericolo, ha bisogno di controllare le gemme, che è lo stesso che succedeva nella prima stagione, dove le gemme erano in una situazione di estremo pericolo, erano missioni molto importanti per loro e dovevano recuperare delle gemme corrotte che non erano solo di mostri da sconfiggere, erano le loro vecchie compagne che andavano recuperate e poi c'era Steven che faceva il cretino e voleva far vedere loro l'hamburger zaino. E quello è il punto. Che succede? È la stessa cosa con Spinel. Solo che Spinel non ha uno zainetto cheeseburger da far vedere, ma ha i suoi piccoli giochetti. Prova a giocare con un ametista, a prendersi, prova a proporre un puzzle. A volte la zecca, a volte rovina tutto, a volte fa un disastro epocale e rischia di ammazzare Rubino, un'altra volta invece è lì, è tranquilla, è felice, è adorabile. Perché Spinel è proprio come Steven. È piccola, è una bambina e ha bisogno di essere, sì, tenuta d'occhio, ma anche di essere liberata. Spinel ha il diritto che ha anche Steven di essere se stessa. E quindi lei si limita a seguire la gente, fare guai, ma non lo fa con cattiveria. Steven, per la primissima volta nel corso della serie, non è quello più piccolo a cui nessuno dà retta, ma è cresciuto e stavolta si ritrova a fare da genitore verso Spinel. Proprio come avevano fatto Garnet, ametista e Perla, che non sapevano fare i genitori, ma hanno dovuto farlo, insomma. La stessa cosa Steven, che deve cercare di fare il genitore per Spinel. Almeno fino a quel momento in cui Spinel non scopre la sofferenza. Ovvero vede sparire davanti a sé Steven, che è il suo amico. E senza Steven si sente abbandonata. Si guarda in giro disperata e qui Spinel ha solo un significato molto più simile a quello di Perla. Perla è stata creata per Diamante Rosa. E quando Diamante Rosa se n'è andata, Perla ha sofferto come una cagna. Ma al tempo stesso ha imparato a badare a sé stessa. Ha capito che lei era autosufficiente e che la sua stessa esistenza non dipendeva da Diamante Rosa. E ha dovuto aspettare non che Diamante Rosa fingesse la sua frantumazione, ma che Rose non ci fosse più e che ci fosse Steven. Una cosa completamente nuova per riuscire ad accettare questa perdita. Perla ha avuto enormi difficoltà, ma l'ha presa bene. Spinel l'ha presa male. Parecchio male. E quando Diamante Rosa sparisce, Spinel si sente abbandonata, ma non sceglie di andare avanti con la sua vita e fare la sua vita come ha fatto effettivamente Perla. Ma Spinel non segue una ragazza con i capelli rosa. Spinel vuole vindicarsi per essere stata abbandonata. Da Diamante Rosa che già sappiamo che non è che fosse questa grandissima persona come ci veniva descritta un tempo. E... beh... Steven fa lo stesso errore di sua madre. Fa lo stesso identico errore di sua madre. Certo c'è la parte della recitazione dove Steven si fonde con Greg, crea Stegg e fa in modo che si scatti qualcosa nella mente di Perla che fa in modo che Perla si renda conto del fatto che Greg non può essere al centro della sua attenzione. In realtà Greg è solo una limitazione per la sua personalità. Perla se lo deve proprio servire, lo deve servire per scelta e non per una programmazione. E quando Perla vede sparire Greg il suo mondo si trasforma e capisce che può essere indipendente. Spinel, anziché vedere sparire Greg in una fusione con Stegg, vede sparire Steven in una fusione con Greg. Già. E quando vede sparire Steven subisce lo stesso trauma che Perla ha vissuto quando ha perso Diamante Rosa. Spinel subisce lo stesso trauma che ha già subito con Diamante Rosa. Ma con Steven. E beh, qui è una rappresentazione ovviamente, Steven si sta affondendo con Greg ma non sta davvero abbandonando Spinel. Il problema è che Steven abbandona davvero Spinel. E quando Spinel corre via dal concerto, Steven non la insegue. La va a cercare dopo il concerto. Quando decide di aggiungere al gruppo Garnet e anche Leone, Spinel viene tagliata fuori e resta a terra mentre gli altri volano. Spinel viene messa da parte per tutto il film, viene ignorata. Quando Steven e Ametista scappano dall'arcade, lasciano Spinel indietro. E questo è solo un esempio delle tante volte in cui Steven abbandona Spinel. La abbandona se stessa. Certo, Spinel è irritante. Quando la vediamo capiamo perfettamente perché Diamante Rosa ha scelto di... Beh, non portarla con sé nella ribellione perché già me la immagino a rovinare tutto nella ribellione. Così come ha fatto Steven. Forse se Spinel fosse venuta con Diamante Rosa nella ribellione, certo, avrebbe rotto un sacco di scatole. Forse avrebbe combinato qualche guaio ma... Forse avrebbe anche proposto qualche idea decente per risolvere i problemi. Spinel ha un pensiero trasversale. Spinel è un'altra persona, un modo di ragionare completamente diverso. Perché Spinel è folle proprio perché è una bambina. Ed è stata programmata per essere una bambina. Non la si può incolpare di questo. Rebecca Sugar, tra l'altro, ha rivelato il modo in cui Spinel è riuscita a procurarsi tutti quanti quegli oggetti, tutto quell'armamentario. Ovvero... Erano di Diamante Rosa. Ecco perché sono rosa. Non per Spinel che è rosa, ma per Diamante Rosa. Visto che lei era al servizio di Diamante Rosa, aveva accesso a ogni oggetto di Diamante Rosa e ai luoghi e all'armamentario di Diamante Rosa. Armamentario che è rimasto in disuso per migliaia di anni perché i diamanti si rifiutavano di toccare qualsiasi cosa fosse di Diamante Rosa, lasciandolo esattamente lì dove era, per non revocare i ricordi. Fino al momento in cui non hanno deciso di annientare la terra con il grappolo per liberarsi di tutti i ricordi di Diamante Rosa, ma fino a quel momento comunque era tutto lì e per Spinel ci volevano 5 secondi per recuperarlo. Alla fine Spinel è un po' quella amica che tutti quanti mettono da parte perché è irritante, perché magari vuole sempre fare un sacco di cose che in realtà non sa fare o che prova a far parte di un gruppo senza riuscirci. Credo che anche voi sia capitato di essere quella amica, di essere quella persona che cerca di stare simpatica a tutti, di inserirsi nel gruppo, ma proprio non ce la fa perché non è voluta. E infatti Spinel fa molta, molta fatica ad essere accettata dalle Crystal Gems, soprattutto ad essere accettata da Steven, e si illude di poter essere addirittura la sua migliore amica. E Steven non può. Steven non può semplicemente essere amico di una gemma che a malapena conosce. Le amicizie sono più complicate, nascono da spontaneità, da eventi. Non scegli tu di chi essere amico e chi no. E non ha senso promettere a una persona che sarai suo amico se in realtà non sai nemmeno chi sia o come comportarti e magari vi starete simpatici per un mese e basta. Non si può promettere un'amicizia. L'amicizia c'è. Si crea per conto suo, spontanea, come un fiore che nasce dall'etame. Che c'entra l'etame? Spinel, in ogni caso, è una bambina, la cuginetta che vi accollano e che vi segue sempre, perché vuole giocare ai vari giochi ma non è abbastanza grande per giocare ai giochi e quindi rovina tutto, non è capace di fare niente, bisogna di essere sempre seguita e a un certo punto non la vuoi più. Affortunatamente i bambini crescono, ma Spinel non può crescere. Spinel è una bambina e quindi l'unica occasione in cui cresce è quando smette di essere Spinel e la vita e diventa Spinel e la morte. ha sofferto così tanto quella piccina. Presa per il culo da Diamante Rosa è orribile, ma al tempo stesso possiamo capire Diamante Rosa che ha cercato di liberarsi di lei nell'unico modo possibile, dicendole oh, facciamo un giochino, che è la cosa più subdora ma al tempo stesso forse è l'unica che si poteva fare. avrebbe dovuto portarla con sé nella ribellione? Certo, ha portato... cioè lei ha accettato tante di quelle gemmi imperfette che poteva tranquillamente accettare Spinel e che poi con i suoi poteri poteva fare un sacco di cose. Però Spinel sarebbe dovuta crescere e cambiare una cosa che Diamante Rosa ancora non conosceva quando era sul pianeta natale e frequentava quel giardino. Sarà bellissimo vederla come spalla di Diamante Giallo che la adora. Insomma, non vedo l'ora di vederla in Steven Universe Future e vedere quanto può cambiare una gemma perché questo è il bello in Steven Universe che le gemme nascono in un certo modo restano identiche per sempre finché a un certo punto puf riescono a cambiare. E Spinel l'ha aspettato un bel po' essendo l'ultima che abbiamo conosciuto ad essere un minimo cambiata ad aver scoperto la Terra e... beh... è adorabile però che Spinel nella sua forma di bambina abbia imparato ad apprezzare la Terra e quindi una volta tornata ecco... una Spinel più adulta e matura abbia deciso subito di non prendersela con Steven e con la Terra e abbia cambiato idea immediatamente. Può cambiare di nuovo idea pensando di essere stata presa in giro però comunque Spinel effettivamente ha apprezzato la Terra lei sarebbe potuta essere una Crystal Gem se solo Diamante Rosa glielo avesse permesso lei sarebbe potuta essere parte di questo gruppo se solo glielo avessero lasciato fare in molti inquadratori si vede che Spinel poteva tranquillamente essere parte di tutti gli altri e è bellissimo vedere le sue espressioni mentre gli altri si occupano delle loro trame dove lei ha il suo modo di interpretare ogni cosa ogni tanto è felice perché pensa sia un gioco ogni tanto è preoccupata più degli altri e lei è solo felice della sua amicizia con Steven e lei non voleva altro che venire sulla Terra con Diamante Rosa sarebbe stata una grandissima Crystal Gem l'avrebbero adorata ma nessuno l'ha mai conosciuta state per chiedermi perché allora il titolo Spinel e la vita beh in Spinel e la morte Spinel diciamo che aveva dedicato la sua vita alla morte mentre la vera vita di Spinel è quel rimasuglio che le vediamo vivere dopo migliaia di anni che aspetta di avere un amico in cui beh per poco tempo per qualche ora lei ha un amico un amico in Steven e nelle Crystal Gem e la sua opportunità dopo migliaia di anni lei si gode la vita in un modo meraviglioso proprio come faceva Steven all'inizio e infatti si vede che Steven è maturato anche perché non fa più queste cose e mi dispiace mi manca lo Steven che ogni tanto faceva l'idiota mi manca lo Steven che amava la vita e che ha fatto scoprire la pioggia a Peridot cuocendo la pasta mi manca lo Steven che si comporta meno da leader e più da bambino che ama la vita e Spinel me l'ha ricordato tanto che è